Sotto le mentite spoglie della restaurazione della Repubblica, Ottaviano è l'artefice dell'instaurazione del Principato. Dopo aver ottenuto il consolato con la forza, diviene censore. È nominato Princeps Senatus, è insignito del titolo di Augustus e gli vengono conferite a vita la Tribunicia Potestas e l'Imperium Proconsulare Maius. Nel XII è Pontifex Maximus, nel II ottiene il titolo di Pater Patrie. Ottaviano svuota ogni carica istituzionale del suo valore reale, finché di fatto riconduce tutto il controllo della vita politica di Roma nelle sue mani.